Ci sono già i due zeri che danno buona fiducia, non danno pressione, può montare calmo e aver già la certezza che l'Italia è messa in una buona posizione. Attenzione, quasi lo va a toccare ancora. Incredibile, Ares, datti una sveglia. Ovviamente lo dico in tono affettuoso, come lo direi al mio cavallo, quindi non me ne voglia Emilio quando sentirà magari la mia telecronaca. Oh, bravissimo Emilio qua. D'altronde Ares, io l'ho sempre detto, è uno dei migliori cavalli nel circuito internazionale, mezzi sicuramente impressionanti. Ora qualcuno grida calma, non so chi è stato, ma qualcuno ha gridato calma. Mi sembra di aver riconosciuto la voce di Luca Marziani. Anche questo è un ostacolo insidioso per lui, un po' di fortuna per noi, ma ci vuole anche questa. Beh, invece poi non ci aiuta nella gabbia. Quattro va bene, forza Emilio, stai tranquillo. Calma, calma Emilio, stai nella sella. Oh, bel risultato, quattro penalità vanno bene. Non male, non male. Se dovesse anche andar male, Lorenzo De Luca siamo comunque a pari della Germania, siamo comunque... Allora... Allora...